Il vento forte non impedisce i lavori in Piazza Duomo, si procede con i lavori di restyring, ma soprattutto sono stati ormai montati quasi tutti i nuovi lampioni che comporranno l'illuminazione pubblica, la nuova, di Piazza Duomo. Però, come sempre, all'Aquila su questo argomento si è aperto un grande dibattito. L'ironia corre sul web, impazzano i meme sui nuovi lampioni scelti dall'amministrazione comunale per Piazza Duomo, nella quale è in corso un restale incompleto che prevede nuova pavimentazione e anche nuova pubblica illuminazione. E' abbastata già una foto del vice sindaco a Recanati, dove la nuova tipologia era stata scelta per far partire le polemiche e ora che i lampioni montati fanno già me la vostra in Piazza, i cittadini si sono scatenati ancora di più. Sono arrivati UFO in Piazza, ci stanno nascondendo qualcosa, fase 1, 2, 3, perché lampioni per qualcuno somigliano a una scuola pasta e via dicendo, compresa la somiglianza con le docce usate in spiaggia. Insomma, come sempre, gli aquilani la prendono sul ridere. Ma c'è anche chi difende la scelta del vice sindaco Raffaele Daniele, che aveva spiegato che una volta accesi con i led avranno l'effetto di luce stellata e sarà bellissimo. Lampioni, peraltro, aveva detto il vice sindaco, usati anche in altre città d'Italia e che quindi si intonano anche in una città antica come l'Aquila. Ovviamente ci sono i favorevoli che dicono di attendere il risultato finale, ma i più continuano a sostenere che erano belli vecchi lampioni, progettati dall'architetto Giuseppe Santoro in stile Liberty per proseguire l'effetto dei portici del corso. Grazie 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 Grazie